oddio vabbè voi non capite come fanno arrivare prima di noi ogni volta ma non sono più bassi ma anche più avanti cioè io dicevo male più avanti ma più bassi no erano più avanti e più bassi com'è possibile cazzo io sono andato giù diretto non so come fanno no ma non ci sono andati non lo so vado oh oh ma oh non è che posso buttare per fine di vota eh ma non ci sono me lo potete aspettare c'è gente qui te lo dico eh ci gente in rosa morta arrivo io io mi vivo in faccia e mi spara no? vieni qua dai mi stiamo a vedere eh beh mai ti segue quello ma io arrivo dopodomani eh un uomo massacrato eh un uomo massacrato eh oh 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 merdo oh ma perché non funziona mai il tasto cazzo? un uomo massacrato dell'accomanato più e è un uomo assacrato giudice tu la casa sopra l'hai aiutata tutto si ma che sto curando perché sto sfondato la casa sopra l'hai curato cioè i diavini tu giudatti la casa sopra l'hai perdo tutto sopra come si di oca? ma è impossibile come andata roba c'è qua? ma come non avete preso? è impossibile che gli aiutarti cioè io sto cercando degli scudi dio canta di dio bastardo non c'è un cazzo è impossibile che gli aiutarti tutto sopra eh qui il regalo ci sta dov'è? regalino no 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 non è il regalo sono le splash di merda cazzo non è semplicemente detto che mi becca però veramente wow oh capito giudice si è tirato sulla cauda qua sopra ma non l'hai citato come mai oh cazzo me la frega oh cazzo me la frega blu vale c'è hai sentito? ma andiamolo è di qua io vado eh addio dici che dici che ci aspetta? mi sa che qua non ci aspetta beh ho sentito un colpo ma ti lo piglio sono andato di qua eh si di qua eh no lo sto qui eh lo so aspetta no la corre corre devi seguire si è ancora capito eh aspettami però mi no sta scappando i fili di f***lo ma come sei andato ma come mai è corso così veloce ma che cazzo ma corre veloce quando di solito uno l'ha preso ma se non c'è stato nessuno tagliamogli la strada qua no sta arrivando la safe mi sa che non ce la faccio la beva a fanculo ormai è andato troppo distante qui c'è un bordello di splash qua c'è questo me lo dico no dai vabbè come non faccio fuori di merda che giuse sto fuori di merda mi ha preso? certo che mi ha preso ma ne ho due dieci cazzo minchia non c'è la barca con l'attacco non è possibile allora quindi che materiali c'è? cosa dici? di sciascia? minchia uno è svenuto cazzo minchia ha perso i sensi ha perso i sensi ma chi? io non mi risparo questi cazzo me ne frego ma non è vero pezzo te ne fospe ma c'è una roba lì eh, andiamo? vabbè mi ha fondato dove fai sapere c'è roba? eh, sono sulla montagna che l'ho visto tutto c'è il maiale? potetica no, faccio materiale non puoi dire che niente materiale non importa siamo distantissimi siamo ancora ma porca troia per ogni volta eh eeeh, certo eeeh, certo eeeh, certo non ci brighiamo finch' siamo in tempo fare cosa? rimani safe che facciamo? interveniamo? potremmo intervenire? eeeh intervieni approfittane no? stanno sparando no, cazzo quanto è giustato che la mia faccia ma perchè c'era uno spider di su culo figurati vabbè quello, guarda mai avete capito che c'è uno spider guarda per quello e me c'ho solo due armi eh ma pure io due due, perchè due? è venuta e splash qui c'è lo splash non lo trovate c'è io c'ho la... la mitraglietta e c'è c'ho la... la mitraglietta e c'è... addiooo e' un dieci e' un dieci e' beh non le armi non le ho trovate non è che... ECCOLEEEE ma è troppo distante lo splash adesso ma è tantissimo comunque eh vogliamo togliare la strada qua però e' beh sperando che quelle da... da condotte non ci sentano ci vengono da dietro però come al solito che ho sparato voi? ma ti hanno visto mi sa' voi avete sparato? no dov'è? ma hai detto c'è spuglio eh ma 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 era un bot cazzo te l'ho detto io cazzo oh io lascio un mini scudo ma ma la mitraglietta e' fondamentale ragazzi everybody spadi la fega di merda c'è qua oh ma c'è? oh hai visto? ci sono qua oh ma cosa c'è lì oh ma c'è la trivella c'è ma tutto si è fatta cazzo oh c'è? ci sono i bot con la trivella qua ma infatti si vociferava che facevano i buchi e poi uscivano diceva che si vociferava che usciva qualcosa da sottoterra sai che vociferi? c'è la trivella qua ma che cazzo è che parlo? ma è nuova la trivella non ce l'ho mai stata no mi spara no ma perché mi spara a me il bot ma io sono sempre fatto un cazzo non gli ho fatto la trivella è nuova che vociferava è qua eh non lo viene a vedere ma lo vedo da qua su ma lo so scemo di scelta si stava sparando al maiale il bot e poi è cominciata a sparare a me così a caso boh vabbè un trivellando giuse trivellano il ciccio quelli eh vedi che hanno fatto vedi che hanno fatto ah no non c'è il buco lì però è come se hanno scavato se c'è il buco del culo giuse diciamo che ti dobbiamo andare qua comunque eh te lo dico che cazzo dici shah 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 ah detto poteva andare anche di qua ma dove? ci fa cosa qui eh qua l'ho preso un caco eccaleeeeeeeeeeeeeeeeeee è forte anonimo rigiardo vedi che cos'è che andate? uuuuuh mini scudi oh ma qual' è l'onimo che cazzo dici? ma c'è il coso blu qua eh vabbè ora ma qua ce l'ho più io mi lascio quattro splash addio coglioni eh splash lascia io vabbè questo l'hanno sparato eh arrivano dove? a te t'hanno sparato giugno che cazzo fai giugno dai giugno è morto pari giugno ma che cazzo fai dai cisi come si va ad uscire da qua? anzi non riesco più a capire dove si esce è un labirinto porca puttana dai cisi giugno ah chi è? uno ucciso è da un bot però oh mi sono quasi cicchilato oh mi sono quasi cicchilato eh oh non riesco a sparare 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 vabbè che devo fare ogni volta cisco c'è un scudo qua eh non so ma non riesco a sparare non riesco a sparare non riesco a sparare andiamo avanti qua so tutti i bot porca puttana che cazzo dici a più no è anche una persona che vuole trovata che c'è una roba che c'è quella è un'altra tenda vabbè C'è chi non è sempre me, e no... Eh, quale cazzo state? Vabbè... Lasciandola avanti di Andrew... Eccoli la, forse... Ho visto uno che andava dall'acqua... Non è detto che sia un bot... Quello è un bot... Dove è? Ecco là... Maduuu... E' deciso, no? E' un altro bot... Non c'è bisogno però... C'è chiuse... C'era... Ecco che stanno lì stanno... Eh, dove è il drone? Non c'è, non c'è... Non c'è, non c'è... Non c'è, non c'è... C'è roba qui, ehm... C'è roba qui, ehm... Stiamo facendo il fortino... Eh... Eh... Ehi! Ma di fortino... No... Ecco... No dai, io raga... Uno l'ho battuto qua, ehm... Aiutatemi! Uno l'ho battuto... No, l'ho quello di curare, ehm... E' qua... E mi fa puntare... Dio... Qua comunque, raga... Eh, lo ti ho curato, mi sa... Eh... Eh... Massacrato! L'ho battuto, l'ho battuto, l'ho battuto! Bravo, Gisni! Dici grazie! Lo vuoi... L'hai uccisi tutti? No, se ne ho... Un mi scudo, se ne ho un mi scudo, uno solo! No! Non c'ho... Non mi splash l'ora, eh! No, no, c'ho questo qua! Ho avuto questo qua! Ho avuto questo qua! Un po' di splash devo farmelo, però! Giusè, vieni qua che facciamo gli splash! Giusè, vieni qua che c'è il coso qua, eh! C'è il coso che ti fa... Ma pigliare la corona da pigli, dov'è? No, dov'è? Dai, io... Ma dove cazzo è? No, ma da dov'è? Ma non c'è da curare qua! Non c'è roba da curare, Giusè! Mi prego, la roba di quelli! Dove cazzo sta la roba di quelli? Ma non c'è! Ma non c'è! Dov'è? Non c'è! Eh, già, già, dove stava sei? Eh, ormai! Oddio! E' morto uno adesso! Mi ha dato l'uccisione di uno adesso, eh! Dove cazzo è che è morto? Sarà morto lì dietro! Bazzardo, maledetto! Ma rebendo? Nessuno c'è un rebendo? No! Ma c'è la tenda qua! Usa questa per curarti, no? Eh, dillo, almeno! Dai, oh, siamo contro tre! Eh! C'è lo scudo, no! Adesso si mettono qua su, guarda, eh! Forse ci sono qua su, eh! Eccoli, infatti, sono stegiosi su, lo sapevo io! Sono barricati, attenzione! Dove? Eh, lascio, vambini che stanno... Guarda? Ma io sentito uno dietro, cazzo! Ma io sentito uno dietro, cazzo! Ma io sentito uno dietro anche, però, eh! Ma io sentito uno dietro, cazzo! Ma io sentito uno dietro, cazzo! Ma cazzo dici! Oh, merda! Ah, ma così ci puntano! Eh, vabbè, però così! Oh, giusto, che fai? Ti sparano! Oh, no! Dove stanno? Ma lì sta! Ah, l'ho fatto cadere a quello! Ho copito un colpo a quello, però... Boh! Ma porca... Cazzo fai io! Aspetta, no! Ma cazzo crea! Ma crea! Ma crea! Che cazzo te ne frega! E ora? 33, 22 gli ho fatto sempre a quello, cazzo! Nooo! Mi hanno cecchina... Ma da dove? Dai, però... No, l'ho vinto quello col cecchino! Ah, pezzo de' merda! Ah, l'ha battuta quello col cecchino! Così si impara, cazzo! No! Io sto andando perchè sono una locura, eh! Ma porca che sono in due, eh! Uh! Eh, però, puro, non vero così, eh! Se non mi aiutate, però... No, non mi aiutate, ma ci mi aiutate! Un po' di un po' di... E niente, vabbè! Di qui due? No! Devo ricaricare, non c'è più! Ah, cazzo! Ah, è morto! Non l'hanno curato a quello! Che stai sparando so come? Eh, quel bastardo! Oh, quello è quasi morto, eh! Quello è un coglione de' merda, però! No! No, continua! Questo cazzo di lanci e granate! Quante colpiciate! Qua si è morto, qua qua, eh! Cazzo di lanci e granate! No! Non ho più cure io! Non ho più cure io! No, 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 no! Che cazzo è? Ah! Non capisco dove è! No, no, no! Ah! ho finito di costruire pezzo di merda ma f***o va ahhh shuuu shuuu